Siete? 3, 2, 1, via! Round 1, fight! Io cucite? Io cucite, buono. Ok. Ika yoko. Ika yoko, ok. Usumarei? I sashiburi. I sashiburi. I sashiburi. Ma che 3? Vabbè. Che tocca? Oh yeah, my friend. Guarda, quante mosse devi fare ancora? Come fai? Hanno fatto 10 mosse. Ma che 10 mosse? Guarda, quante mosse non ho fatto. Abbiamo fatto 4. No, è che ci vogliono umiliare sempre di più, capito? Sto giocolo, siccome... Siamo molto forti a sto giocolo, non è assi. Sì, ma vedi qualche mossa però? Vai. 3, 2, 1, via! Round 2, fight! I sashiburi. I sashiburi. Chi ho cucite? Chi ho cucite? Io... 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 Non capisco il colore, vaffanculo. Sono stato 42... 42 secondi a capire che... Scini era rosa, dai. Ma che gioco è, ragazzi? Ma che gioco è? Sì, sì. Sì, sono... Sono sazio, ragazzi. Sono sazio. Troppo emozione. Possiamo chiuderla qui, ragazzi. Ok, salutate! Sì, sì.